Sono iniziate le vaccinazioni anti-covid a San Giovanni su Ergio e Carloforte. La crescita dei contagi intanto ha portato il sindaco di Carloforte ad ordinare forti restrizioni nelle scuole. Teulada è tornata covid-free. Il sindaco Daniele Serra ha rivolto un appello ai cittadini affinché conservino gelosamente il risultato raggiunto. Operazione antidroga della polizia a Cagliari. Arrestate due persone trovate in possesso di 20 kg di cocaina purissima. Torna il campionato di Serie D dopo la pausa pasquale. Il Carbonia contro il Cassino non avrà in panchina Marco Mariotti squalificato. Domani si giocano quattro anticipi. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. È stato aperto questa mattina l'hub vaccinale di San Giovanni su Ergio. 120 le persone vaccinate ogni due ore. Siamo andati sul posto con le nostre telecamere. Abbiamo intervistato la sindaca Elvira Usai e il responsabile della campagna vaccinale, il dottor Beppe Ottaviani, al quale abbiamo chiesto anche perché ieri numerosi anziani che sono andati al CUP del Sirai a prenotare i vaccini hanno fatto la fila inutilmente. Sentiamo insieme. È iniziato alle 9, erano previsti 60 utenti ogni ora, uno ogni minuto, che è un flusso che abbiamo visto che può essere retto tranquillamente, pur trattandosi di anziani che vengono tutti accompagnati e via. È regolarissimo, dopo due ore hanno fatto i 120 classici, diciamo che spaccano il minuto. E quindi questo ci aiuta anche nella gestione della fluenza e della vaccinazione in generale. Dottor Ottaviani, ne approfitto della sua presenza per chiederle invece una cosa che riguarda le vaccinazioni a carbonia. Molti anziani ieri si sono recati al CUP dell'ospedale Sirai per prenotare il vaccino con l'impegnativa del proprio medico alla mano. Sono stati però rimandati indietro e non hanno accettato la prenotazione. Perché? No, è solo un problema di capienza delle agende. Le prenotazioni vengono fatte con delle agende quotidiane che in genere accolgono circa 400 utenti per ogni sessione di vaccinazione. È successo che l'agenda che era in funzione si è saturata molto velocemente, quindi il tempo di aprirne un'altra per la settimana successiva, quindi non c'era la capienza di prenotazioni, ma non è che non sono finiti i vaccini, è che giustamente dobbiamo evitare di... non possiamo programmare a lungo termine, dobbiamo programmare di settimana in settimana, perché la stessa cosa è successa anche sull'agenda di Sant'Antioca e sull'agenda di Iglesias. Si sono saturate tutte e tre insieme, quindi vuol dire benvenga, che vuol dire che la gente viene a farsi vaccinare. Quindi sono più di 1.200 prenotazioni fatte. Adesso apriamo le agende per la settimana successiva, sperando che arrivino i vaccini, perché abbiamo nuovamente problemi di approvvigionamento. Sindaco, un'opportunità importante per la cittadinanza di San Giovanni Suergiu e anche per le frazioni limitrofe, che possono usufruire della possibilità di avere un hub della vaccinazione sotto casa. Esattamente, per la nostra popolazione, che come sapete è sparsa in un centro e in tanti medausi e in tante frazioni, e anche per tutto il territorio circostante, la possibilità di avere un hub vaccinale qui a San Giovanni Suergiu, nella palestra comunale, è stata veramente una benedizione. Un qualcosa di inaspettato, per il quale ci siamo messi subito a disposizione nei confronti dell'ATS, è che la stessa ATS ha accolto di buon grado, mostrando un'ampissima collaborazione con tutti noi. Quindi li ringraziamo per questa opportunità, perché veramente la cittadinanza di San Giovanni, ma anche tutti quelli che vengono dal territorio circostante, insomma, hanno la possibilità di non fare assolutamente tanti chilometri per potersi vaccinare. Anche a Carloforte stamane sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid-19 nel centro allestito al Teatro Cavallera. Fra oggi e domani verranno somministrati 720 vaccini Pfizer. La seconda dose sarà somministrata il 30 aprile ed il primo maggio. Verranno vaccinati gli ultraottantenni e gli ultra65enni con determinate patologie. Con Carloforte e San Giovanni su Ergiu, dopo Carbonia, Iglesias, Sant'Antioco, Flumini, Maggiore e Bugeru, continua la campagna di vaccinazione programmata dall'ATS nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il comune di Sant'Antioco ha avviato la procedura di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid-19 per gli over 70 e i cosiddetti pazienti fragili. La procedura è quella già testata per gli over 80. Gli interessati devono rivolgersi al proprio medico di famiglia per ottenere la prescrizione e successivamente prenotare al CUP, il centro unico di prenotazione dell'ATS. Coloro che vorranno beneficiare del vaccino anti-Covid-19 dovranno compilare la modulistica disponibile presso il sito istituzionale del comune di Sant'Antioco e al centralino del municipio. Nota informativa, scheda anamnestica, modulo di consenso. Prenderà il via a Stintino la campagna vaccinale anti-Covid-19 per i nati dal 1942 al 1951, quindi i 70-79 anni residenti nel territorio comunale di Stintino. Il comune invita tutti coloro i quali debbano eseguire la vaccinazione a contattare l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per fornire il proprio nominativo e contatto telefonico. I dati saranno poi trasmessi all'ATS di Sassari che provvederà alle successive convocazioni. Per contattare l'Ufficio è necessario chiamare i numeri 079-522028 e 079-522030 dalla lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13. Andiamo avanti. Con 20 positivi, 6 dei quali sono bambini, abbiamo deciso di chiudere le scuole Primavera, Nido e Materna per una settimana, mentre elementari e medie passano in DAD al 100%. Solo l'Istituto Nautico continuerà le lezioni in presenza con una percentuale in didattica a distanza, almeno per oggi decisione assunta in accordo con la dirigenza scolastica. Il sindaco di Carloforte, Salvatore Pugioni, ha annunciato nella tarda serata di ieri la sofferta decisione adottata per cercare di contenere quanto più possibile la diffusione del virus e quindi i contagi. La situazione purtroppo nelle ultime ore si è complicata ed il rischio di nuovi contagi è alto anche per la presenza di bambini tra i nuovi positivi al Covid-19. Una bella notizia invece, Teulada ritorna a comune, Covid-free, lo ha annunciato il sindaco Daniele Serra che ha pubblicato nella pagina Facebook istituzionale del Comune di Teulada questa foto vale più di molte parole, ha scritto Daniele Serra e l'elenco aggiornato ad oggi dei positivi Covid a Teulada dal portale dell'ATS, zero casi. Il risultato è incoraggiante, ma sappiamo che mantenerlo non è semplice né scontato, specie alla luce delle notizie che giungono a livello regionale. Perciò dobbiamo tutti fare in modo che rimanga tale tenendo alta la guardia e rispettando ancora di più le norme anticontagio. Inoltre, dopo i nostri solleciti, finalmente stamattina ci è stato comunicato che sabato ATS procederà alla vaccinazione degli ospiti e dei dipendenti della Casa di Riposo per Anziani Comunale ha concluso Daniele Serra. Un tassello in più per la messa in sicurezza sanitaria del nostro Paese. Ci trasferiamo ora a Bosa, dove il sindaco Piero Casula ha fatto il punto sulla situazione sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Giampaolo Cirronis. Sono attualmente 37 i casi di coronavirus a Bosa, dei quali 8 sono persone ricoverate in ospedale. Lo ha reso noto il sindaco di Bosa, Piero Casula, che ha sottolineato come tre di queste si trovino in rianimazione e continuino a destare forti preoccupazioni. Un'altra persona si è aggravata, ma per patologie pregresse. Intanto prosegue l'attività di monitoraggio sulla popolazione. Sono stati eseguiti 483 tamponi che hanno interessato non solo i residenti, ma anche altri provenienti dalla Planargia, in modo particolare persone legate al mondo della scuola. I volontari della Croce Rossa italiana, aggiunto il primo cittadino, hanno collaborato attivamente con gli operatori dell'unità di crisi per tutte le operazioni necessarie al riconoscimento e alla distribuzione delle provette. Qualche problema c'è stato con gli elenchi a disposizione degli operatori, ma salvo qualche situazione particolare, i tamponi sono stati fatti a tutti, rispettando le previsioni iniziali. Una perfetta organizzazione che ha visto gli operatori impegnati nella logistica. Grazie al supporto del cantiere di forestazione, è stato ripulito Piazzale Pischedda, mentre gli operatori hanno piazzato la segnaletica e la dita Econord ha predisposto il servizio rifiuti, così come la cooperativa Idea Verde ha pulito gli spazi. L'attività di controllo è stata curata dai carabinieri e dai marinai di Circomare. Come amministrazione, ha concluso Piero Casula, ringraziamo fortemente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle operazioni sanitarie. Per questo, con lo spirito di favorire e di rafforzare il rapporto tra le istituzioni, chiediamo agli organi competenti l'istituzione abosa di un hub vaccinale, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione di questo territorio per l'effettuazione dei tamponi. Ed ora il consueto aggiornamento regionale. Sono 305 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore nell'isola su 6.598 test eseguiti, con una percentuale del 4,62%. Si registrano 5 nuovi decessi. Sono 302 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale, in reparti non intensivi, più 8 rispetto a mercoledì e 49 più 2 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.848. La Sardegna da zona bianca probabilmente sarà nuovamente zona rossa. In questi giorni si registra un'impennata di contagi ed una vaccinazione che va a rilento. Crediamo che, alla luce di una situazione veramente drammatica, sia il caso di dare un'inversione di tendenza ed un'accelerata al sistema di vaccinazione. Lo ha detto stamane Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico. La situazione è preoccupante ed è necessario che chi ha una responsabilità di governo si comporti in maniera adeguata, ha concluso Emanuele Cani, e basta con i proclami e vetrine. Servono azioni concrete, vaccinazioni e vaccini. Riparte oggi l'attività dell'ufficio protocollo ASL-Oristano. Le giornate di apertura sono lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11 alle 13. I cittadini potranno recapitare all'ufficio protocollo la corrispondenza e la documentazione indirizzata all'ASL di Oristano nel rispetto delle misure di prevenzione Covid. Restano attive le modalità di trasmissione della corrispondenza via e-mail e PEC consultabili sul sito www.asl-oristano.it Voltiamo pagina tra le ore 18 del 7 aprile e le ore 18 dell'8 aprile. Gli uomini del Corpo Forestale hanno effettuato 2.557 controlli negli scali aeroportuali e portuali, 1.213 nell'aeroporto di Cagliari e 239 in quello di Alghero, 839 nel porto di Olbia, 163 in quello di Porto Torres, 35 a Cagliari e 14 ad Arbatax. Sono stati effettuati anche 10 controlli nel territorio. Passiamo alla cronaca. Ieri pomeriggio, gli uomini della squadra mobile di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato di 40 anni di Cagliari ed un camionista di 42 anni, originario di Torino ma residente a Cagliari, ritrovati in possesso di 20 chilogrammi di cocaina purissima. Il quarantenne è stato pedinato sino alla zona industriale di Macchiariddu a Cagliari dove è arrivato il TIR condotto dal 42enne. Gli investigatori hanno assistito alla consegna di una borsa, avvolta in una coperta all'interno della quale c'era la cocaina suddivisa in panetti e allo scambio di 20 mila euro in contanti, quale compenso per l'autotrasportatore. Il TIR era arrivato ieri mattina al porto di Olbia proveniente da Livorno, a bordo di un traghetto Mobilines. La cocaina sequestrata, una volta tagliata e suddivisa in dosi, avrebbe avuto un valore di mercato di oltre 7 milioni di euro. Gli arrestati sono stati indagati per il reato di traffico di stupefacenti e condotti nel carcere di Uta. Rischiano sino a 30 anni di reclusione e 260 mila euro di multa. Bentornati in studio. Sono iniziate ieri mattina le operazioni di incorporamento di oltre 250 allievi carabinieri che inizieranno il 140esimo corso formativo per carabinieri effettivi presso la caserma Trieste di Iglesias, sede della scuola allievi carabinieri. Vediamo insieme i servizi. Quest'anno il 140esimo corso sarà intitolato alla medaglia d'oro al valore militare carabiniere Alberto Larocca, nato a Sora in provincia di Frosinone il 30 gennaio del 24 e trucidato dai nazisti il 12 agosto 1944 a Fiesole, in provincia di Firenze. Il corso formativo per carabinieri si articolerà in due cicli di sei mesi ciascuno e più precisamente quello che si appresta ad iniziare vedrà la presenza nella sede storica di Via Indipendenza di allievi tutti provenienti dalle fila o che avevano prestato il servizio quali volontari nelle forze armate, esercito, marina, aeronautica e si concluderà alla fine di ottobre mentre il successivo secondo ciclo sarà interamente alimentato da allievi provenienti dalla vita civile con inizio a partire dai primi giorni del gennaio 22 e termine con il previsto iter addestrativo a ridosso dell'estate 2022. Gli allievi che giungeranno in questi giorni provenienti da diverse regioni d'Italia con una buona percentuale di giovani che sono originali della Sardegna circa 70 si presenteranno suddivisi nell'arco di quattro giornate presso la caserma Trieste con un tampone molecolare o antigenico già effettuato almeno nelle 72 ore precedenti e saranno sottoposti solamente su base volontaria alla prevista vaccinazione. Le operazioni di vaccinazione che si svolgeranno all'interno della caserma è stato possibile prevederle nel corso delle prossime settimane grazie alla collaborazione e alla sinergia avviata tra la scuola allievi carabinieri l'assessorato della sanità della regione autonoma della Sardegna e l'ATS di Carbonia che permetterà di immunizzare gli allievi carabinieri con le dosi di vaccino previsto attraverso l'attività del personale militare sanitario dell'infermeria presidiaria della scuola che sarà affiancato dalla preziosa collaborazione di medici e infermieri messi a disposizione dall'ATS di Carbonia sotto il coordinamento del dottor Giuseppe Ottaviani. La scuola allievi di Iglesias in questa maniera potrà ridurre i rischi di eventuali contagi avendo già vaccinato nel corso del mese di marzo il personale del quadro permanente che lavora all'interno della caserma presso il Policlinico Universitario di Monserrato e gli allievi che si accingono ad iniziare il centoquarantesimo corso. Le giornate del corso formativo semestrale si articoleranno dal lunedì al sabato e vedranno gli allievi carabinieri impegnati in un'alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali attività pratiche e moduli didattici orientati concretamente a sviluppare e consolidare in ognuno di loro la spinta motivazionale e adotarli delle conoscenze dottrinali ma soprattutto delle capacità e abilità necessarie ad un affidabile operatore di sicurezza per poter svolgere un efficace servizio di prossimità sul territorio rivolto a soddisfare le legittime e sempre più pressanti aspettative e bisogni della popolazione. C'è allarme nel settore agricolo dopo le gelate che hanno colpito la Sardegna in questi ultimi giorni a destare maggiore preoccupazione sono i vigneti ma anche gli ortaggi e la frutta sono in pericolo e quanto emerge dal monitoraggio della col di reti sugli effetti del maltempo sulle coltivazioni agricole. Le piante durante il riposo invernale ha sottolineato la col di reti sono in grado di sopportare temperature inferiori allo zero anche di decine di gradi ma diventano particolarmente sensibili una volta risvegliate, in fase di fioritura o dopo aver emesso le nuove foglioline. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire il livello del danno. Andiamo a Tortoli dove sono in corso i lavori per la realizzazione di 30 nuovi loculi nel cimitero comunale. Vediamo. Il cimitero di Tortoli sarà ampliato con 30 nuovi loculi. Sono in corso gli interventi di realizzazione di un'ultima batteria per un costo di 30 mila euro all'interno della struttura situata in località Ismordegus alla periferia nord-oveste della città. Un intervento che precede un prossimo ampliamento che riguarderà la parte nord per il quale l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Cannas ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 180 mila euro. Sono stati inoltre realizzati altri 12 ossari e sono in dirittura d'arrivo i lavori di restauro della cappella. L'attuale sistemazione del cimitero è stata individuata alla fine dell'Ottocento ma è stato ai primi del Novecento che è iniziata a prendere forma. Gli spazi destinati alla sepoltura a terra sono inseriti all'interno di un complesso di viali sterrati delimitati da file di cipressi, oleandri e altre essenze arboree. L'ingresso principale è situato in Via Santa Chiara. Oggi riposano nel cimitero 3.294 defunti. Vi sono 1.435 tombe a terra più 765 loculi dei quali 39 realizzati recentemente. La tomba più antica risale al 4 settembre 1905 data di scomparsa di un concittadino nato nel lontano 5 novembre 1835. Il cimitero di Tortolì hanno spiegato gli amministratori è molto frequentato tutti i giorni di apertura sono tanti visitatori che vanno a trovare i loro cari a posare un fiore a curare il luogo dove riposano. L'esperienza nel recente programma RAI Il Borgo dei Borghi potrebbe unire Baunei a Tropea. Ad annunciare l'intenzione di un gemellaggio sono gli stessi primi cittadini Salvatore Corrias e Giovanni Macri. Un'avventura si legge in una nota congiunta che ci ha fornito l'occasione per realizzare un'unione tra le nostre comunità affinché si possa costruire un ponte che dai versanti del Martirreno sia occasione per valorizzare, conoscere ed arricchire i nostri borghi. Ringraziamo la RAI Radio Televisione Italiana per l'incessante lavoro finalizzato a promuovere e valorizzare il patrimonio italiano costituito dai borghi che è patrimonio di cultura e civiltà. Cresce la compagnia barraccellare di Sant'Antioco questa mattina nell'aula consigliare hanno prestato giuramento 12 nuovi barraccelli entrati ufficialmente in servizio nel gruppo antiochense sotto la guida del capitano Marco Mucci. I 12 nuovi componenti hanno pronunciato la formula di rito alla presenza del sindaco Ignazio Locci, del comandante della Polizia Municipale Gianfranco Lefons e del capitano della compagnia Marco Mucci. In totale, con questi inserimenti, ad oggi sono 30 i barraccelli che animati da puro spirito volontaristico presidiano quotidianamente il territorio delle comune di Sant'Antioco. Il loro lavoro, preziosissimo, si sviluppa su diversi settori, dalla vigilanza ambientale al presidio del territorio fino all'impegno nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ed ora passiamo alla cronaca. Una 35enne di Sina in noto ai carabinieri della compagnia di Dolianova è stato denunciato per l'ennesimo raggiro perpetrato stavolta i danni della titolare di un negozio di abbigliamento del Paese. Nonostante, in tempo di pandemia, il calcio dilettantistico regionale sia fermo per motivi sanitari, l'uomo è riuscito a vendere una sponsorizzazione mediante cartellonistica da esibire dentro il campo sportivo del Dolianova, deserto da molti mesi. Giunta a denunciare il raggiro alla locale stazione dei carabinieri, la donna si è vista esibire dai militari un album fotografico contenente la foto dell'autore della truffa che lei ha riconosciuto senza ombra di dubbio avendolo ben visto in volto. I carabinieri della stazione di Serrenti hanno denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari un 31enne ed una trentenne del luogo vecchie conoscenze di militari per il furto di una Ford Focus avvenuto la settimana scorsa. Il fatto era venuto quasi alla presenza del proprietario dell'auto che al momento della sottrazione stava rientrando verso la stessa. Aveva anche riconosciuto l'uomo che si infilava al posto di guida ma un riconoscimento in quelle condizioni vale quello che vale sul piano processuale. I due avranno dunque l'ennesimo processo nel frattempo l'auto è stata ritrovata a Cagliari. Saranno cinque i giovani di Porto Torres che potranno partecipare a progetto Promemoria Auschwitz Sardegna 2021. Quest'anno a causa della pandemia non sarà possibile organizzare la trasferta ad Auschwitz. Le visite saranno effettuate in forma digitale hanno rimarcato gli organizzatori e sarà comunque un'esperienza molto forte che coinvolge i giovani partecipanti in riflessioni profonde con l'ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione attiva e una conoscenza che partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda guerra mondiale arrivi ad analizzare in modo critico e costruttivo il presente che li circonda. È un progetto davvero meritevole hanno aggiunto le assessore della cultura Maria Bastiana Cocco e della pubblica istruzione Simona Fois anche se quest'anno non sarà possibile svolgere il viaggio a Cracovia sarà comunque un'esperienza di grande impatto formativo. Andiamo avanti a causa dell'emergenza sanitaria la fiera regionale Promo Autunno non si farà neanche nel 2021 l'evento organizzato dalla Claudio Rotunno Events Designer in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari ed altre importanti realtà istituzionali era saltato già lo scorso anno per lo stesso motivo Promo Autunno si tiene fin dal 2016 a Sassari negli ampi spazi della Promo Camera a Predanieda È tutto pronto per il ciclo di incontri intitolato 10 storie promosso dalla Caritas diocesana di Aless Terralba e finanziato da Caritas Italiana con i fondi 8x1000 L'iniziativa è inserita nel più ampio progetto Duc in Altum Abbi Cura di Lui e comprende 10 appuntamenti un salutino confortevole accoglierà in ogni puntata un nuovo ospite che si racconterà e dialogherà con alcuni studenti degli istituti superiori del territorio presenti nel salone del centro pastorale di San Gavino dal quale saranno trasmessi i video i ragazzi potranno porre delle domande all'ospite e il pubblico da casa potrà scrivere messaggi nella pagina Facebook della Caritas di Aless Terralba ed ora chiudiamo con il calcio quindi lo sport non ci sarà Marco Mariotti domenica pomeriggio sulla panchina della Carbonia nel match casalingo con il Cassino in programma al campo Iscollus di Sant'Adi per la nona giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D il tecnico bianco blu infatti sconterà la prima delle due giornate di squalifica che gli sono state inflite dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel turno prepasquale a Nola la partita avrà inizio alle 14 su richiesta della società laziale domani si giocano intanto quattro anticipi Afragolese Torres Latina Latte Dolce Nocerina Nuova Florida e Visartena Lanusei il programma della giornata verrà completato domenica con le seguenti partite Arzachena Giuliano Monterosi Gladiator e Muravera Savoia insieme Formia Nola con il calcio si chiude qui il nostro telegiornale odierno vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda grazie per essere stati con noi e per l'attenzione vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.